panorama dalla seggiovia dei siltri il monte cavallo un po annebbiato ancora parecchia neve il monte pegherolo quasi non si vede proviamo a vedere qui si intravede eccolo il pegherolo poi scendiamo la pista nera ancora innevata poca neve per sciare il panorama il panorama il panorama adesso giriamo di qua il panorama dell'enna il passo di lenna si intravede forse in valtellina c'è il sole il pizzo di lenna poi giriamo ancora giriamo ancora la cima di siltri nella nebbia e adesso andiamo a vedere la pista dei siltri ancora innevata guarda lì guarda lì la famosa casetta fra un po verrà giù ecco la pista dei siltri siamo il 26 di maggio del 2018 alle ore 11 guarda quanta neve ancora che c'è tanta neve tanta neve tanta neve tanta neve tanta neve tanta neve e qui c'è il bellissimo cavallo e qui ci sono io guarda qui che bel fiè è bello 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 guardati il cavallo caldo Grazie a tutti.